Allo Stadio Mancini questa mattina alle ore 9 si sono dati appuntamento lo staff tecnico e i giocatori dell'Alma Juventus Fano per effettuare i test atletici. Tutti presenti i nuovi acquisti a partire da Chiacchiarelli, Buongiorno, Camilloni e Bartolini, fino agli ex Vigor Senigallia, Cuomo e Gregorini. Aggregati anche alcuni validi giovani della Juniors come Gambelli, Fiacco e Gian Tomasi. Da venerdì mattina all'Alma invece si dovrebbe trasferire ad Apecchio per il ritiro vero e proprio che verrà interrotto per la partita di Coppa Italia contro il Feralpi Salò. Per noi il mercato non è ancora chiuso, ha detto il direttore sportivo Roberto Cannestrari. Stiamo cercando due under, un trequartista e un difensore laterale. Abbiamo alcuni nomi, stiamo facendo le valutazioni del caso per scegliere quelli che meglio si possono integrare in questo gruppo già ben amalgamato.